E vado da me, vado da me Ragazzi, state un attimo zitti? Bene a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Fortnite Oggi siamo su Fortnite ovviamente Oh my god Non puoi fare i video Non fare i video Va bene, va bene, non faccio i video Va bene, va bene, non faccio i video Io non ti volevo buttare fuori, ma mi non più coglioni così Posso dire che tu devono seguire su Instagram Almeno questo Ma no Che mi devono seguire su Ma hai 3 iscritti Hai 3 iscritti Che si devono iscrivere e attivare la campanellina Lasciare like posso dirlo Ok, ho capito Aspetta un po' quella No, no, basta Ok, non dico Non sto finito Vai, pericattare, basta dire guarda la lobby Dipende se sei leader Dipende se sei leader Dipende se sei leader Beh, certo Sono leader Io non ho sempre leader Io non ho sempre leader Abbandonato Perché? Perché? Che succede? Perché? Perché sei uscito Dani? Ma te l'hai scopito? Non lo so Beh, andiamo all'Igo push Andiamo alla senzia Beh, è più push dell'Igo Beh, la gente è la senzia Ma perché è uscito? Beh, ho capito Ho capito che usciva Quindi sei uscito Potrei dire che facciamo Due d'oltre quattro Beh, non è difficile Il fatto che La chi la sente su sta Grazie Prego Eh, non ho capito una sega Però... Prego Grazie 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 Ma io l'ho mutata Ma basta Mi sta rompendo le orecchie Dai, bello Le armi Le armi Le armi Le armi Le armi Le armi Ma non mi hai vinto Ma se vuoi da mettere Sono un po' di armi Eh, vorrei volentieri ripenendo Sono totalmente gratuite Non ti chiedo di pagare Però via Bello Come vengo Con i piedi Eh, Dani c'è il boss finale Ah no Lo so Vai, fam Si trovo In tutti i giochi A livello 85 Ma che pittolino Ma non è possibile Mi faccio la posta, eh Almeno non ho fatto un po' di loco Ok Mi traietta, buono Trova venire da te, eh Mi faccio vedere Un po' di due 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 qua sotto, qua sotto no, non fai tappi, cazzo a terra non sapere la mia storia non era per dire a loro non lo fa fuori, eh no, non ce l'ho 35 bianco 35 giallo e bianco è qua, è qua, è qua qua dentro lo flanco morto, morto, morto morto, morto morto ho l'altro fino ad aprire il cavo, eh eh, allora ha fatto, viene eh, dov'è il cavo? eh, 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 eh oh, mi schiava, mi schiava 4 4 4 no, no, fermo, fermo non ti fai vedere, non ti fai vedere apri, apri eh, eh, eh boh, lasciami qualcosa non ho trovato armi in questo airdrop non ha senso ma non ha senso airdrop aspetta, fatti i cosi fu buono questo facciamo tutti i cosi un attimo, facciamo la shield non lo faccio, ma comunque non c'ho vita faccio il medico, almeno arrivo ma no, ma sei stupido, ma ti sono questo eh, no, ma non c'evo vita allo stesso vedete che non c'ho vita la scuola ai conti di pompa c'erano 5 tutti in casa c'erano 5 parmo un po prima non so non cazzo ma cosa non so non c'erano ma chi vedi che fa solo bocci 7 volte su 10 devi fare le campole mi ricordo io odio le tifiche a me c'è un po però ha rotto le tifiche è molto più divertente ma in particolare so poi va a morire ma non c'è un po ma ho sbagliato il d'acqua non volevo ricassare ho sbagliato il d'acqua copriti che c'è gente là si ho capito ho capito ma tu mica c'è te si l'elicottero è safe si più o meno dai si si è safe anche se c'ha 6% di vita no però così c'è comunque però prendere uno e mezzo al mare è veramente possibile io prima ero un campioncino le tifiche ero tutti poi ho acquittato per 3 minuti poi io continuo a far male io a safe io ce l'hai un po' di masso come scusa? ce l'hai un po' di masso 200 280 eh ti posso ok 32 no però ci scurano non fai dare non fai dare dai indietro va bene grazie vabbè però ha delle hit 84 di 84 32 la 1 blu la meno madonna quello lì ha sicurato la mano è monetissimo 32 ancora? arrivo da te questo qua va da noi è monetissimo vabbè 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 io li ho ancora fatta quello lì che gli avevo fatto 64 li ho ancora fatto 32 32 c'ha uno di vita cioè c'era curato vabbè 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 che non c'è un salito vabbè eh ma far cadere questa rocca è impossibile troppe robe troppe robe troppe sopra non c'è più nessuno ma vai aiutami aiutami è lì è lì pushiamo dai potremmo prenderla ai ground tra poco arriva anche la 6 faccia mi billing faccia e se ne va 22 22 a 1 ultam oh vaca mao sono un bot di team anche la la 1 col barre in Tokyo ti potrebbe mirare arrivo da te sono lì bianco 23 23 23 dai lo teniamo un po no non fai dare oh non fai tanto vai c'è un pazzo è un fultino 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 non credo fossero così ma ma dai il bel io scappo con la giam io l'ho messa però più o meno pingata ho jumpato, ho jumpato io con la mia non morire non credevo fossero così tanti uno l'ho squaiato, quello con la skin bianca l'ho squaiato l'ho squaiato la mano che shield? vieni qua con me, seguimi veloce volto dai davanti è stato da 40 no, no, sono morto sono morto un tot forse non mi cagano forse non mi cagano forse non mi cagano forse oh devi aiutarmi zio sto fai tanto, sto fai tanto in cima, in cima, in cima, c'ho un'ultimo, ci sono io ci sono io, sto fai tanto in cima, in cima, in avanti e non mi fa davvero sparare più tardi non sparare più raggi quanto devo uscire da risparmi solo quando la meno penso a farne molti molti ma può essere più mongoloide vabbè ma c'è questi veramente tutti c'è una volta a me con la rima è cascato in fronte sì ma amici ti sparano con l'ancionante ragazzi direi che la faccio sbagliato il suo e ci vediamo ciao